benvenuti siamo nel club della sports science academy e devo dire tra gli argomenti più dibattuti c'è sempre soprattutto per chi magari fa sport attività sportiva fine estetici quindi magari insomma culturismo bodybuilding e non fa per un'attività finalizzata ad una prestazione ad una gara chiaramente la l'ipertrofia è importante molte volte devo dire tra i vari gruppi anche social eccetera nasce il dibattito sì ma quante volte ma devo fare solamente una parte del mio corpo lo posso fare una volta la settimana due volte volte lo posso fare in monofrequenza multifrequenza eccetera come facciamo in questo club dell'academy partiamo dalle evidenze scientifiche per poi passare alla pratica di campo questa review del journal sport science sia interessante perché ci fa capire al momento lo stato dell'arte quanto può essere efficace un allenamento composto da una sequenza temporalmente più ravvicinata o meno sull'ipertrofia però non sulla forza non sulla potenza e non su altre prestazioni abbiamo con noi giuseppe loria giuseppe arrivi dalle arti marziali dal pugilato anche come atleta poi si è passato anche all'allenamento sia di una parte insomma legato sempre sport di combattimento ma anche poi per attività di altro tipo bene cosa hai preso di utile da questo da questa review nella pratica di tutti i campi insomma se avessi oggi un atleta sono me che non faccio questo ma che dice guarda io vorrei migliorare la mia ipertrofia tu cosa suggeriresti se già ma effettivamente il discorso è estremamente dibattuto perché ancora oggi nonostante questa sia una meta analisi di più sistematica quindi può dare un indice abbastanza certo dello stato dell'arte attuale di quello che la scienza dice in merito a questo argomento lascia ancora spazio molti altri studi ad oggi sembrerebbe che fatta eccezione del discorso che diceva poi anche paolo penso che l'allenamento è una risposta individuale e su questo non si può discutere ma basandoci su una media statistica sembra che non ci sia una grossa differenza tra la multifrequenza e la monofrequenza bisogna anche dire che nello studio si prendono come dicevi tu a oggetto soltanto la frequenza singola quindi a parità assoluta di volume quindi non si parla né di densità né di intensità d'allenamento quindi le altre variabili non vengono toccate ed è una cosa che chiaramente viene specificata all'interno dello studio detto questo appunto da un punto di vista pratico il suggerimento è quello di analizzare l'atleta che si ha di fronte e cercare di capire se questa persona risponde meglio a uno stimolo in monofrequenza cioè lavorando il muscolo ai fini ipertrofici bisogna dirlo specificatamente ai fini ipertrofici una due volte a settimana il singolo gruppo muscolare il gruppo muscolare oppure farlo arrivare fino anche a 5 6 volte a settimana giuseppe ti volevo giusto molte persone che poi seguono non arrivano tutte dalla palestra cioè fanno canoia nuoto altro per cui monofrequenza e multidisciplina di cosa stiamo parlando esattamente cosa sono è la metodologia che si ha è una della la frequenza è una delle variabili che dell'allenamento insieme alla intensità la densità e al volume e stabilisce per quante volte quel determinato gruppo muscolare o quel gruppo o quel muscolo deve essere sottoposto a stress per poter crescere e nella nella meta analisi appunto si discute su questa cosa il misunderstanding spesso avviene perché si fanno si menzionano professionisti del settore specialmente bodybuilder che per lo più si allenano quando arrivano ad un certo livello in monofrequenza perché riescono a dare e qui torniamo al discorso facevo palo penso un carico interno molto molto importante nella singola seduta di allenamento e poi hanno bisogno di tempi di recupero molto ampi per poter massimizzare la crescita muscolare perché poi l'ipertrofia e la crescita muscolare negli sport diciamo così è questa evidenza decresce perché negli sport qualsiasi sport sia l'intervento di tutte le altre variabili che non sia soltanto la crescita muscolare molto importante altri tipi di adattamenti che si ricercano vanno a influire no ecco qui sulla sulla review vengono trattati anche degli esempi diciamo ad esempio più altra altri studi che ci sono stati quindi esce sulla review ma sicuramente sulla pratica di campo ne parlate costantemente non c'è un metodo che è sempre giusto sempre sbagliato assolutamente quindi dipende anche dal livello di ingresso molte volte capita magari sui social che io insomma intervenga qualche gruppo in qualche discussione che magari una persona sia appena iscritta in palestra sta proprio iniziando e gli dicono no ma tu devi fare in monofrequenza perché ma anche no ma anche no ok quindi tendenzialmente come consiglio generale tu diresti a una persona che sta per iniziare di fare un tipo di lavoro di suddividere il volume su più frequenze cioè di allenare quel muscolo più volte alla settimana da dividere in questo modo da dividere il carico interno come diceva lo stress subito in modo che il corpo possa recuperare meglio quando la persona ha deciso che quale è l'obiettivo da perseguire in questo caso è l'ipertrofia allora può ragionare su diverse strade e vedere come il proprio corpo in funzione degli adattamenti che ha avuto nel in un periodo più lungo perché bisogna dire che qua si parla dalle 6 settimane in su mai brevi tempi 6 8 12 settimane o ancora anche fino a 24 perché gli adattamenti sono molto complessi da ottenere e poi una volta che ha una sua un suo background può decidere se allenare in multifrequenza o in monofrequenza è anche vero che io sono andato per curiosità scientifica a vedere in questa review del 2018 dicembre quindi è ieri praticamente ma siccome l'argomento ci sono tantissimi studi ed è molto dibattuto si arriva anche fino a luglio 2019 e e effettivamente sembra che sia la multifrequenza sia la strada un pochino più indicata che dia i migliori stimoli ecco però quante volte alla settimana mediamente anche ti senti di consigliare una persona che dipende molto dal livello dipende tantissimo dal livello e si arriva fino anche a 6 volte a settimana ok quindi comunque anche chi fa diciamo allenamento solo per ipertrofia poi alla fine deve allenarsi da atleta così come fanno gli atleti che vanno a fare le competizioni in altri sport dove è male che si allene tutti i giorni molte volte non sembra non sembra in qualche sport non sembra normale bene allora grazie a giuseppe luria anche oggi nel club della sports science academy ciao formula hit il primo libro sui segreti dell'allenamento intervallato ad alta intensità per sport e fitness lo trovi in tutte le librerie oppure sul sito ufficiale formula hit punto com iscriviti al canale